Un po' di pollo e baciato, pasta a pomodoro, pollo e patate E lì sotto non c'era? Sto facendo lui dei piazzi in parte, non ho ben capito Tu Gabriele hai visto dove so' cresciuto io, quindi c'è stato? Più o meno non è molto diverso da me Ciao ragazzi, come vai? Ciao A posto, va al bagno Il bagno, va a mangiare? A posto, va a mangiare un'esculzione che non parei mai quella della nappe delle ville, le VIP Tipo la villa di Jennifer Love, eccetera Ci siamo stati noi al dominibus No, abbiamo visto noi il villaggio VIP, quell'altro là dentro Sì, ma non me ne prendi Poco anche a me E questo che c'è un pollo, la patta e un po' di riso? Poi, secondo me, qui non vediamo neanche E qua è?